Ufficializzate le deleghe della nuova giunta ad Alfonso, il nuovo entrato, Andrea Gerosolimo di Abruzzo Civico, ottiene, come annunciato, formazione e lavoro, un tempo di marinella sclocco, unica quota rosa in giunta, oltre che associazionismo territoriale e grandi eventi. Una battaglia durata un anno che si è conclusa con l'ottenimento della poltrona e qualche polemica da parte di SEL che ha subito le conseguenze maggiori. Il vulnus della mancanza dell'assessorato ad Abruzzo Civico è un vulnus creato all'inizio della legislatura. Noi non abbiamo mai fatto una questione di posto, di poltrona, è stata semplicemente una questione politica. SEL sta comunque all'interno della struttura che avrà comunque potere decisionale. Credo che la coalizione tutto sommato sia riuscita comunque rafforzata. Marinella sclocco si è vista togliere la delega alla formazione e al lavoro anche se continuerà a mantenere le politiche giovanili, annessa a garanzia giovani, le politiche sociali, pari opportunità, terzo settore e la nuova delega ai beni comuni e alla valorizzazione dei beni culturali. E a chi le chiede se si è sentita penalizzata dall'ingresso di Gerosolimo risponde. Ne abbiamo discusso e abbiamo trovato questa via di mezzo. Per cui i progetti che avevo portato avanti li continuerò a portare avanti. Spero, ma sono certa, che l'assessore Gerosolimo voglia proseguire quello che di buono è stato fatto o è stato messo in campo in un anno. Mario Mazzocca alla fine ha accettato l'incarico di sottosegretario, conservando, come chiesto da lui stesso, più volte le importanti delega all'ambiente, alla protezione civile, al servizio idrico integrato. L'ex sottosegretario d'Alessandro, dal canto suo, continuerà a portare avanti materie quali trasporti, infrastrutture, mobilità, il progetto Abruzzo Day e il Giubileo.